Il Giubileo straordinario della Misericordia, evento di singolare rilevanza spirituale, ha visto nei mesi scorsi affluire a Roma tanti pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. Anche voi siete stati chiamati ad un maggiore impegno operativo per far sì che le celebrazioni e gli eventi collegati col Giubileo si potessero svolgere in sicurezza e serenità. L'ordine esteriore sul quale voi avete vegliato con grande diligenza, attenta premura e costante disponibilità, ha così contribuito a favorire quello interiore dei pellegrini in cerca di pace nell'incontro con la misericordia del Signore. Un'udienza intrisa di gratitudine e riconoscenza. Incontrando i dirigenti e il personale dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Vaticano, Papa Francesco ha espresso stima e vicinanza a quanti ogni giorno si prodigano con grande sollecitudine, professionalità e senso del dovere nel presidiare e custodire il centro della cristianità e altri luoghi di pertinenza del Vaticano. Conosco la fatica del vostro lavoro e i sacrifici che ogni giorno dovete affrontare. Le ha aggiunto, sappiate che vi apprezzo molto e spesso penso con sincera riconoscenza a voi e alla vostra preziosa opera.